Tragedia questo pomeriggio in località Cavallo. A perdere la vita un 53enne precipitato per 40 metri dopo aver perso il controllo del proprio trattore. Con lui una donna rimasta gravemente ferita. Medici e pediatri lo confermano. Fioccano le pronotazioni per vaccinarsi, ma dei vaccini neppure l'ombra, almeno per ora. Intanto i casi di coronavirus sono in aumento. Il presidente dell'ordine dei medici, rispetto a questa primavera, siamo però preparati. Firmato la scorsa notte il nuovo decreto del governo destinato a dettare le regole anti-contagio per i prossimi 30 giorni, ma nella nostra provincia sono ancora molti gestori di locali pubblici che non si fanno scrupoli ad aggirare i divieti. L'ex sindaco Andrea Ruggeri ferri corti con la giunta Gavazzi, nel Mirino, i lavori di ristrutturazione della nuova sede della Proloco. Ed ora tutti in procura. Un coriale ben ritrovati per informazione serale di Telesondrio News. Un'edizione che oggi apriamo con la cronaca perché c'è stata una tragedia in Valgrosina. A perdere la vita un 53enne precipitato a bordo di un mezzo agricolo in un dirupo. Con lui una donna che è rimasta gravemente ferita. Vediamo insieme il prossimo servizio. Un uomo di 53 anni, BM e le sue iniziali, ha perso la vita questo pomeriggio attorno alle 14.40. Era a bordo di un mezzo agricolo sulla quale viaggiava assieme una donna, rimasta a sua volta gravemente ferita. Mentre percorreva la strada in località Paganella in Valgrosina, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e precipitando nel vuoto per oltre 40 metri. Fatale il volo. Il 53enne è stato sbalzato dal veicolo, morendo così sul colpo. Sul luogo della sciagura sono prontamente giunti i vigili del fuoco del comando di Sondrio, assieme ai carabinieri della stazione di Tirano e al personale del soccorso alpino di Bormio. Particolarmente impegnative le fasi di recupero della salma e della persona rimasta ferita, giunta all'ospedale del capoluogo attorno alle 17.15. Per lei ricoverata in codice rossa, trauma cranico e lesioni agli arti superiori. immediatamente allertato l'edito di soccorso, giunto, come dicevamo, dall'ospedale di Sondrio. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa italiana. La strada lungo la quale i due incapitati viaggiavano e che porta a Fusino è nota per essere particolarmente impervia. Ed ora ci occupiamo di sanità. La campagna antifluenzale di ATS e AST prenderà il via il 3 novembre. Da ieri, soprattutto per le cosiddette categorie a rischio per cui la vaccinazione è gratis, è possibile prenotarsi, ma solo prenotarsi appunto, perché per il momento né medici di medicina generale, né pediatri, né farmacie hanno il vaccino a disposizione. Intanto però i casi di persone positive al coronavirus, anche in provincia di Sondrio, sono in aumento. La sola differenza, assicurano gli esperti, e non è cosa di poco conto, sta nella differente preparazione di ospedali e medici nel fronteggiare l'emergenza rispetto a questa primavera. Di vaccini, covid e nuove restrizioni. Abbiamo però parlato con il dottor Alessandro Innocenti, che è presidente dell'Ordine dei Medici della provincia. Sara Baldini. Influenza di stagione e coronavirus. Non soltanto diversi sintomi dell'una e dell'altra sono sovrapponibili. Se ne parla anche perché, secondo diversi esponenti del mondo medico-scientifico, il vaccino anti-influenzale ricoprirà un ruolo fondamentale nella lotta al covid-19 nel corso dell'inverno. Il motivo è presto spiegato. Riducendo il numero di persone che contrerranno l'influenza stagionale, sarà possibile alleggerire la rete di medicina territoriale e dirottare maggiori risorse economiche, mediche ed umane verso la cura dei malati di covid. Per questo motivo le regioni italiane hanno fatto incetta di vaccini anti-influenzali, arrivando anche a raddoppiare gli ordinativi rispetto allo scorso anno. Ci ha pensato anche Regione Lombardia, che tuttavia ora si trova con 100.000 dosi acquistate ma non utilizzabili perché l'azienda cinese che le produce non ha ancora ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione da parte dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, e dunque non potranno essere somministrate ai pazienti lombardi. E sebbene la centrale acquisti Lombarda fa comunque sapere che sono oggi disponibili 2,9 milioni di dosi di vaccino, che sarà regolarmente somministrato secondo il piano previsto dalle autorità sanitarie regionali, la realtà è anche in provincia un'altra. Il mistero però è se i vaccini ci sono o non ci sono. Per ora non ci sono. Quindi la speranza è che arrivino. Chiaramente si spera che ne arrivino a sufficienza, però questo è ancora un mistero, insomma la certezza non c'è ancora. Ma se da ieri è possibile prenotarsi, la campagna vaccinale ATS e ASST partirà soltanto dal 3 novembre, quando magari i vaccini saranno, si spera, a disposizione, chi volesse procedere autonomamente all'acquisto del vaccino resterà deluso. Ovviamente nelle farmacie sarà difficile trovarlo. Per quello che vuol fare, per conto proprio, sarà una gara dura. Nel frattempo è sempre più verosimile che si stia per entrare nella cosiddetta seconda ondata della pandemia. Sicuramente il virus sta circolando in modo più rapido di prima. D'altronde i provvedimenti che sta prendendo il governo parlano chiaro. Se consigliano di non fare feste in casa, cioè voglio dire a tal gente che si conosce, secondo me è una prudenza che dobbiamo prendere sicuramente. Il virus circola. Secondo me abbiamo un po' esagerato durante l'estate, un po' troppo a libertà e una volta che è partito, è partito. D'altronde oggi come oggi i casi sono quasi tutti di origine familiare. Un altro aspetto che quest'anno inevitabilmente avvicina semplice influenza ai coronavirus e che sarà impossibile tornare al lavoro come una volta con il solo certificato del medico per i giorni di malattia. Penso di no perché la prudenza vuole assolutamente, prudenti siamo stati tutti i cittadini, ovviamente in questi casi anche il medico sarà prudente sicuramente a fare un controllo non solo sierologico ma anche eventualmente col tampone per essere certo che non sia il covid perché l'influenza è sovrapponibile in molti aspetti, d'accordo? La clinica può essere chiara per il covid più che per l'influenza in sostanza. Ecco, se è conclamato il covid magari la clinica lo può sopportare ma è difficile. Secondo me sicuramente in quei casi purtroppo i controlli andranno fatti. Rispetto all'emergenza di questa primavera qualche differenza tuttavia esiste. colpisce, ha colpisce molta gente giovane che quindi sicuramente ha possibilità di risposta migliore che non la persona anziana o chi ha problemi. In Lombardia dobbiamo stare molto molto attenti, infatti i colleghi sono molto più attenti, indubbiamente sono più attenti di prima, sanno affrontare meglio la situazione, anche diciamo l'ATS si è preparata meglio, ci sono gli USCA, insomma ci sono diverse possibilità che prima non c'erano. L'ospedale, come sapete, si è già ripreparato per affrontare i ricoveri, Sondalo ha riaperto, ci sono già i ricoverati, qualcuno in intensiva, quindi sicuramente sta circolando. Siamo più preparati ad affrontarlo, speriamo che non diventi invece un'invasione come è stata prima. E di differente c'è anche la risposta di medici e ospedali. Siamo più pronti, ecco, allora eravamo proprio a mani nude, anche i medici sono un pochino più, hanno la possibilità di coprirsi meglio dai danni che il Covid può dare, quindi c'è molta esperienza in più e la mettiamo a frutto. Infine il presidente dell'ordine dei medici della provincia di Sondrio commenta le più recenti misure anticontagio che arrivano dal governo. Saranno difficili, però ci conviene farlo, insomma. Ora, a volte sono non in posizione ma raccomandazione, io penso che le sei persone non superare le sei, ha una raccomandazione, come dire, siate pochi e ben protetti in modo tale che non succeda che si ammala il nonno che è in casa. Ed ora un altro tema estremamente caldo. L'altra notte le firme per il nuovo DPCM che, operativo nei prossimi 30 giorni, detteranno le regole del nuovo protocollo anticontagio. Il nemico si chiama assembramento e anche dalle nostre parti non tutti i gestori di attività e di ristorazione sembrano fare il proprio lavoro al meglio in termini di prevenzione. Ce ne parla Giuliano Padroni. La firma, giusto la scorsa notte, per mano del Premier Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza. Un DPCM che sarà valido 30 giorni e che servirà a tentare di porre un argine al numero crescente di contagi da coronavirus un po' in tutta Italia. Contagi, la responsabilità dei quali per buona parte è legata al fenomeno degli assembramenti. E allora ecco le mosse del governo. Con il divieto a feste private al chiuso o all'aperto, con il consiglio di ricevere in casa un numero minore di 6 persone. E poi ristoranti e bar, con l'obbligo di abbassare le serrande alle 24 e il divieto di consumazioni in piedi dalle ore 21. E ancora la chiusura alle sale da ballo e alle discoteche. Obbligo di mascherina al chiuso e all'aperto in base all'articolo 1 del DPCM e tanto altro su cinema e concerti. Massimo 200 partecipanti al chiuso e 1000 all'aperto, ma sempre mantenendo il distanziamento. E sport di contatto, consentiti solo dalle associazioni riconosciute dal CONI e dal Comitato Paralimpico. Ecco, le regole ci sono, ora bisogna rispettarle. E non è così ovvio che questo accada, tanto lungo l'intera nazione quanto nella nostra provincia. Perché? Perché, signori, qui la questione è spinosa e c'è chi rispetta la legge, attenendosi ai protocolli anti-covid, e chi la legge non la rispetta, cercando scappatoie, cosciente del fatto di aggirare le regole. Si va dallo studente, che una volta salito sul pullman, forte del fatto che l'autista non possa arrivare a controllarlo durante la guida, abbassa la mascherina, evidentemente sentendosi più figo, diventando così un vettore del virus, e i dati del contagio in forte aumento tra la popolazione studentesca parlano da soli, fino ai gestori di ristoranti, sale per cerimonie e bar. E sì, anche qui tra sondrio e dintorni c'è chi fa il furbo, perché tira molto di più un locale che chiude un occhio dinnanzi a chi, al secondo o terzo spritz, si comporta come se nulla fosse, dimenticando distanziamento e magari ballando assieme ai propri amici sulle note di un DJ, che un bar o un ristorante che quelle regole, imposte oramai da mesi, le rispetta e come, convinto che osservare le norme, anche se fa abbassare i guadagni, può salvare dal contagio. E c'è da rifletterci su perché ci giungono segnalazioni su operatori del settore che dimenticano regole chiare, norme anticontagio, conosciute da tutti gli addetti alla ristorazione, forse impopolari, ma che vanno rispettate. Nei locali è d'obbligo mantenere i distanziamenti, è vietato il ballo, così come è permesso il buffet solamente se i clienti sono in fila, distanziati e con mascherina. Ad ogni modo, quando si entra in un ristorante, è obbligatorio prendere la temperatura e il riferimento telefonico del cliente in caso si registrino contagi. Certo, ma quante volte questo accade? E perché bisogna arrivare ai controlli da parte delle forze dell'ordine, considerando che dovrebbero essere i proprietari dei locali, dei ristoranti, dei bar, delle sale per cerimonie, ad educare i propri clienti e a vigilare sul rispetto del protocollo? Beh, proprio come direbbe uno studente avvezzo ad abbassare la mascherina sul pullman che lo conduce a casa, è da sfigati. Ma mettiamocelo in testa, tanto il gestore del ristorante che non rispetta le regole, quanto il cliente che quelle norme fa del tutto per non rispettarle, non sono differenti dall'adolescente che abbassa la mascherina, sono tutti parte di una polveriera, pronta ad esplodere, proiettandoci ai mesi più bui di questa pandemia, rendendo vano ogni minimo sforzo portato avanti. Grazie a scelte impopolari, ma che ti salvano la vita. E restiamo in qualche modo in tema perché sono 18 oggi nuovi casi di positivo al coronavirus fra i residenti in Valtellina e Valchiavenna. Lo rivela il report di ATS che conferma così come i numeri siano decisamente in rialzo rispetto anche a soltanto un mese fa. Proteggersi insomma è più che mai indispensabile, tanto per sé quanto per gli altri. Ed ora una ricca pagina politica che inizialmente ci porta in Valfurva. La critica deve costruire, non distruggere. Così il sindaco di Valfurva, Angelo Cacciotto, risponde punto su punto la minoranza guidata da Gianfranco Sarruggia che lamenta in modo principale. La mancata comunicazione riguardo la frana del Ruinon. Cacciotto si dice assillato dall'opposizione. La comunicazione sulla frana del Ruinon da parte nostra, lui dice, è impeccabile. Poi si parla anche del medico che non è presente a Valfurva ma è presente a Bormio. Fermo restando, prosegue il sindaco, che i mezzi di emergenza come ambulanze e camionette della protezione civile possono transitare per la provinciale 29 del Gavia. Nel dibattito entra chiaramente anche l'ipotesi del primo cittadino che auspica la presenza di un commissario, l'unico in grado di coordinare e gestire gli enti coinvolti nel rispetto dei tempi, velocizzando così le procedure burocratiche di due interventi risolutivi, ovvero sia il bypass idraulico e quello stradale. Naturalmente di questa frana del Ruinon parleremo ancora per chissà quanto tempo. E restando sempre in tema, però ci trasferiamo in bassa valtellina, sempre in tema politico naturalmente, perché finisce in procura la questione sollevata dal capogruppo di minoranza Andrea Ruggeri sui lavori della nuova sede della Proloco di Morbegno. L'esponente dell'opposizione contesto una mancata presa di posizione da parte del sindaco Alberto Gavazzi, una situazione che ancora oggi sembra avvolta da troppe ombre e che richiederebbe l'intervento della magistratura. Ma il primo cittadino di Morbegno replica, io non faccio il giudice, saranno le autorità competenti a fare le dovute valutazioni. Il servizio è di Simone Belletti. Finisce in procura la questione sollevata sui lavori nella nuova sede della Proloco di Morbegno. Il capogruppo di minoranza Andrea Ruggeri, dopo aver aperto la discussione nell'ultimo consiglio comunale, ha depositato un esposto al fine di porre l'attenzione sulle attività svoltesi nell'ex complesso conventuale di Sant'Antonio, ritenute illecite. I lavori eseguiti quest'estate nella nuova sede della Proloco non avrebbero rispettato l'autorizzazione della soprintendenza, passaggio necessario quando interessato un bene culturale architettonico. È un esposto che chiede alla procura di verificare una situazione che abbiamo rilevato profondamente fumosa e quindi chiediamo l'intervento delle autorità competenti al fine di dipanare una vicenda che ormai noi da agosto abbiamo segnalato e che a nostro modo di vedere deve risolvere e far comprendere quali siano state le attività svolte all'interno di Sant'Antonio. Dure le accuse rivolte al primo cittadino di Morbenio, Alberto Gavazzi, il quale ha più volte sostenuto l'assoluta regolarità e legittimità delle attività svolte nella nuova sede del Sodalizio, presieduto da Luca della Sale. A noi risulta che in Comune non sia pervenuta nessuna richiesta di intervento negli spazi del Sant'Antonio, che gli uffici non siano stati avvisati e quindi non abbiano potuto permettere l'avvio delle procedure corrette per gli interventi poi che si sono lodevolmente realizzati, ma la cosa che più a noi sorprende e che viene rilevata nell'esposto è la conoscenza e l'inerzia da parte del Sindaco. Secondo Ruggeri, visto che gli uffici comunali non erano a conoscenza dell'avvio delle attività nei due locali del complesso di Sant'Antonio, a concedere il via libera alle operazioni è stato dunque il Sindaco. Tante le ombre che avvolgono la faccenda. È da giugno che il Sindaco ha dichiarato che avrebbe trovato degli spazi per proloco. La minoranza ha segnalato di lavorazioni in Sant'Antonio da agosto. Il Sindaco viene a fine settembre a dichiarare in Consiglio comunale che di lavori non se ne sono stati fatti se non in maniera irrisoria. Ci teniamo anche a dire una cosa. Il Sindaco dichiarò a suo tempo che il suo luogo del cuore fosse Sant'Antonio. Ci auguriamo che non estenda il suo affetto verso il resto della città, se questo è il modus operandi che gli applica sulla città stessa. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Oltre 200 cantieri che interessano tutte le province lombarde per un totale di 138 milioni di euro di investimenti, dei quali ben 24 in provincia di Sondrio. Sono i numeri del programma di interventi di difesa del suolo previsti dal piano Lombardia e approvati oggi dalla Giunta regionale su proposta dall'assessore al territorio e protezione civile Pietro Foroni. Sono orgoglioso di un così poderoso e vasto programma di interventi per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici con un ingente investimento esclusivamente regionale, dichiarato appunto l'assessore regionale. Oltre alla grandissima utilità pubblica delle opere per la sicurezza dei cittadini e delle comunità, si apriranno, ha aggiunto appunto l'assessore, anche molte opportunità di rilancio delle attività professionali come ingegneri, geologi forestali, architetti e geometri. Ed ora siamo alla pagina della cultura. Da giovedì la biblioteca Pioraina di Sondrio riapre le sue suggestive sale all'utenza. In realtà il servizio di prestito libri non si è praticamente mai fermato. Questa mattina siamo entrati per voi a Villa Quadro ed ecco il nostro servizio. Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. Beh, senza scomodare Umberto Eco, è importante che la biblioteca Pioraina di Sondrio possa riaprire da giovedì. In realtà il servizio di prestito libri non è mai venuto meno. Ora però si potrà rientrare anche nelle sale e accedere agli scaffali. È un segnale molto importante perché i cittadini hanno bisogno di riappropriarsi dei loro spazi. Quindi c'è bisogno di entrare fisicamente nello spazio, di entrare in contatto con i libri. Io credo ancora che nonostante la dematerializzazione della nostra era digitale, io credo che entrare in uno spazio dedicato alla lettura, avere la possibilità di consultare tutto quello che può essere digitalizzato, ma anche quello che fa parte del nostro patrimonio culturale storico. Quindi penso che sia un'esperienza estremamente importante che deve essere data ai nostri cittadini. La biblioteca di Sondrio torna dunque viva, visitabile, e a portata anche di un'utenza magari più anziana e meno avvezza ai servizi online. Il calo dei prestiti nel periodo del lockdown è stato in parte compensato dalla rete con le altre biblioteche provinciali che hanno ottenuto vivo il servizio. Il messaggio più importante che vorremmo trasmettere alla popolazione è che ci avevamo messo un po' di tempo per riaprire, ma proprio perché una struttura come questa, di non facile gestione, essendo fatta tutta di salette e avendo degli spazi molto ampi e molto importanti, era opportuno proprio ragionare bene su come riorganizzare il servizio. E la parola chiave della riorganizzazione è proprio la sicurezza degli utenti. Abbiamo verificato che la rete provinciale a cui noi siamo legati ha funzionato molto bene, nel senso che gli utenti sono andati a ricercare nel catalogo provinciale quello che poteva essere loro utile, facendo prenotazione online, per cui ci sono stati moltissimi movimenti da biblioteca a biblioteca, che è un po' il succo del lavorare insieme. L'aria apertura delle sale della biblioteca è prevista da giovedì, come detto il tutto nella massima sicurezza, osservando scrupolosamente le norme anti-covid. Ed ora cambiamo nuovamente argomento, ma cos'hanno in comune pranzo in un agriturismo, un dolce al ristorante, un aperitivo, una pizza e una messa in piega? Dal 19 al 31 di ottobre, ad Albosaggia, saranno sinonimo di impegno concreto per sostenere l'ILT di Sondrio nella prevenzione e nella lotta ai tumori, in particolare quelli femminili. Vediamo il servizio. Nel mese della prevenzione dei tumori femminili, un concreto sostegno alla sezione locale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Sondrio, si potrà dare anche regalandosi un pranzo in agriturismo, un dolce nel proprio ristorante preferito, ma anche all'ora dell'aperitivo, in farmacia oppure del parrucchiere. L'idea è venuta l'amministrazione comunale di Albosaggia che, nonostante i tempi difficili imposti dal Covid, ha deciso di proporre e di sostenere concretamente anche quest'anno le ormai consuete azioni messe in campo ogni anno ad ottobre. Per due settimane, dal 19 al 31 ottobre, i pubblici esercizi del Paese che hanno aderito all'iniziativa daranno vita ad Albosaggia in Rosa, proponendo servizi, prodotti e offerte sui quali attivare una raccolta fondi. Orgoglio da parte della Giunta per il grande senso di comunità dimostrato dagli imprenditori anche nei tempi difficili di questa pandemia. Albosaggia in Rosa fa seguito alla fitta serie di eventi sociali, culturali e sportivi, accomunati dall'obiettivo di promuovere le azioni di prevenzione dei tumori, in particolare nella fascia femminile, messi in campo negli ultimi anni, grazie anche alla collaborazione con tutte le associazioni del Paese, aderendo anche ai programmi di carattere sanitario a livello nazionale. La locandina con le proposte di Albosaggia in Rosa sarà esposta presso le attività interessate pubblicata sui canali di comunicazione del Comune di Albosaggia e di Fondazione Albosaggia. L'iniziativa, che va oltre la pur importantissima opera di sensibilizzazione attraverso l'illuminazione in Rosa di municipi ed edifici pubblici lungo tutto il mese di ottobre, si va ad aggiungere all'importante opportunità promossa dall'ILTE Comune di Sondrio per l'Ottobre in Rosa. Si tratta del pacchetto prevenzione donna sospeso per chi si trova in difficoltà, ovvero visita senologica, pap test e visita dermatologica gratuite rivolte a donne preferibilmente di età compresa tra i 20 e i 50 anni, quelle insomma escluse dagli screening gratuiti, che abbiano un'ISE non superiore a 15.000 euro. L'impegno assunto dal Comune di Sondrio, ente capofila dell'ufficio di Piano, è quello di promuovere l'iniziativa attraverso il servizio sociale d'ambito, perché tutte le donne che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica non debbano rinunciare ai controlli. Attraverso la rete dei comuni, degli uffici di piano della provincia e delle associazioni, si intende sensibilizzare le donne rispetto a questa iniziativa in particolare e più in generale sull'importanza della prevenzione. Le persone interessate potranno rivolgersi anche direttamente all'ILTE di Sondrio, che si trova in Via 4 Novembre, telefono 0342 219 413, entro la fine d'ottobre, per prenotare la visita. Siamo ora in Bassa Valtellina, autunno dedicato ai funghi, alle castagne e naturalmente al formaggio bitto. Albaredo propone un nuovo appuntamento dove la tradizione popolare e i piatti tipici sono gli ingredienti principali, naturalmente il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Il nostro servizio. È un autunno ricco di gusto quello che Albaredo e Albaredo Promotion ci propongono. La ricetta per ripartire di slancio anche in un periodo difficile come questo. Se settembre ci ha regalato gustosi appuntamenti dedicati prima ai mirtilli e al loro prezioso utilizzo in cucina, poi ai funghi, uno dei piatti tipici dell'autunno valtrinese, e poi ancora alla cacciagione, anche il mese di ottobre non passerà inosservato. Domenica 18 ottobre riproponiamo l'incontro con i visitatori di appassionati dei gusti e dei sapori dei prodotti tipici della Valle del Vito di Albaredo, in particolare il vito, il formaggio matuch, la polenta taragna, i pizzoccheri, e non solamente, in un itinerario emozionale, nel centro vitato, nella parte storica, che ha anche una validità dal punto di vista culturale e della conoscenza per un percorso enogastronomico, di prodotti dell'economia tipica e dell'agricoltura eroica della Valle del Vito di Albaredo, della viticultura valtrinese e delle altre specialità locali. Naturalmente massima attenzione ai protocolli sanitari e alle regole che consentono di socializzare anche in un periodo delicato come questo. Da non perdere però questo appuntamento proprio dedicato al Vito e alla valorizzazione del territorio. Dobbiamo tenere comunque accesa in un periodo come questo quello che è la finestra rispetto al territorio vocato, turisticamente compatibile e sostenibile come il nostro, in un'area naturalistica, come il Parco dell'Aurovia Vortellinesi, in un contesto di alpeggi dove si produce il formaggio vitto e dei magenghi dove si produce il tipico matuch. Perché è importante questo? perché il nostro territorio, il territorio di montagna, il territorio svantaggiato è comunque parte importante dell'ecosistema lombardo nazionale ed europeo e la tutela è data dalla frequentazione e dalla capacità di aiutare l'economia locale anche attraverso la degustazione dei prodotti che sono il risultato di una sapiente arte che dura oramai da parecchi secoli. Quindi vi aspettiamo domenica 18 ottobre nell'evento che noi abbiamo voluto nominare Gusto Bitto ad Albaredo per San Marco. Eventi sportivi e culturali hanno fatto e faranno da contorno a un periodo autunnale che, almeno ad Albaredo, non vuole venire meno alla sua tradizionale proposta turistica. Ed ora siamo in Altavalle per la riuscita serata dei Lions. Ce ne parla la nostra Roberta Cervi. Stop nel 2020 al campus di Bormio Alpi e Golf, il primo in Italia, da 26 anni leader degli scambi giovanili dei Lions Club International. Al convegno nazionale, organizzato dal 1 al 3 ottobre per la prima volta a Bormio dal distretto Lions 108 1B comprendente la provincia di Sondrio, oltre 100 persone si sono interrogate sulla continuità di uno dei service più importanti, bloccato il 23 marzo dalla pandemia. L'Italia è il fiore all'occhiello nel mondo con 19 campi. Sarebbe un peccato perdere il primato. A questo evento sono presenti tutti gli officer distrettuali che sono venuti da tutta Italia, tutti i direttori dei campi giovani e tutti gli addetti ai lavori di questo stupendo service che i Lions portano avanti da tantissimi anni che consente a dei giovani dai 16 ai 22 anni di effettuare un'esperienza presso un paese del mondo dove i Lions sono presenti. Un'esperienza che consente un confronto con le altre culture, consente anche di incrementare la conoscenza della lingua inglese e soprattutto di formare la propria personalità. Siccome noi non vogliamo fermarci perché l'investimento sui giovani è comunque il nostro obiettivo primario, vogliamo tutti insieme ragionare per trovare delle soluzioni alternative. È deciso, nel 2021, Covid permettendo, l'albergo incantato di Cepina in Val di Sotto ospiterà il campus dal 4 luglio per 15 giorni sotto la guida del neodirettore Agnese Bresesti e dei giovani Leo. Programmata anche la consueta ospitalità in famiglie prima e dopo il periodo. È uno dei service più belli perché è quello di mettere in comunicazione fra di loro in relazione giovani di culture diverse, lingue diverse. Lo scopo non è uno scopo né turistico né lavorativo ma è proprio solo quello di incrementare il rapporto fra i giovani di nazioni diverse. E se la serata di gala ha richiesto l'abito elegante, al convegno i Lions indossavano una felpa azzurra molto casual, molto giovanile. Non si erano più visti da febbraio. Più che un gruppo è una squadra una squadra che lavora in sintonia che è un obiettivo comune che collabora, coordina tutto questo service che per noi che lo viviamo da anni è fondamentale soprattutto perché lavoriamo per i ragazzi per i nostri ambasciatori come li chiamiamo noi ambasciatori di pace nel mondo. Sono ragazzi che all'età di 15, 16, 17, 18 anni partono e vivono per un'esperienza unica e irripetibile nella loro vita. Quando tornano ci consegnano un report dove, quando li andiamo a leggere questi report, al 90%, forse anche di più leggiamo sempre e solo la stessa frase è stata l'esperienza più bella della mia vita. Garanzie per i ragazzi, messaggi positivi ma se qualcosa non dovesse funzionare pronti i piani B, C e D in campo tutte le competenze professionali. Ci sono strade che portano a casa altre in vacanza, dice Lorenzo Tadelli Lion Stirlino e quelle che portano a vivere passione, amore e amicizia come quella percorsa in questi anni da Alfredo Cantoni, direttore del Campus Bormino che tanto ha fatto per i giovani e che tutti ringraziano. Unire, far capire ai giovani qual è la cultura e la vita di altre nazioni di altri cittadini e quindi è un metodo per aumentare la conoscenza dei giovani verso la pace e non accogliere le varie diversità che sono reali ma devono essere superate specialmente in questo periodo dove non c'è più tolleranza e dove c'è soltanto soprafazione. E questa era l'ultima notizia grazie per l'attenzione e la simpatia con la quale ci avete seguito anche questa sera e buon proseguimento di ascolto e di visione con i nostri programmi. Al quadrifoglio a Sondrio il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile Al quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti camiceria, maglieria calzature e accessori uomo delle migliori marche al quadrifoglio l'abbigliamento maschile di qualità al prezzo giusto ci trovi a Sondrio in via Caimi 72 telefono 0342 51 49 71 Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale c'è New Probabile Donna la boutique di Sondrio in via Mazzini 15 dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti New Probabile Donna da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour un'eleganza decisamente sofisticata con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità New Probabile Donna Abbigliamento Borse Accessori e calzature a Sondrio in via Mazzini 15 Immaginari l'idea che non avevi in testa a Sondrio in via Bonfadini 9 barra zona stazione orario continuato dalle 9 alle 19 giovedì aperto fino alle 21 appuntamenti allo 0342 03 12 35 in via Mazzini 15